Mamma, mi faresti un piccolo favore? Guarda! Voglio una sorellina! Non se ne parla! Sorellina, vuoi dell'altro tè? Figliolo? Va bene! Davvero? Avrò una sorellina! Scegliamo un nuovo membro della famiglia! La competizione è aperta! Il primo candidato, Andy! Ciao a tutti! Io so cantare! Accidenti! Sono gli ultrasuoni! Lo schermo del mio iPhone si è rotto! Guardate qui! Anche il mio si è rotto! Grazie, Andy! Non sei adatto! La prossima, Erika! Guarda! Sta ballando! Ma che succede? Un terremoto! No! È troppo! Smettila! Terza candidata! Kate dalla campagna! I-ha! Cosa ha di così speciale? Mi piace! Beh, mi adottate o no? Sì! Kate, benvenuta a casa! Questa è la tua stanza ora! Ti piace? Molto bella, ma... È troppo viola! Cosa? Questa stanza è mia! Non litigate, bambini! Divideremo la stanza a metà! Ecco a voi! Come vorresti decorare la tua metà, Kate? Ho un sacco di idee di design! Qualcosa di rosa! Carino e soffice! Mamma, papà! Non preoccupatevi! Ci penso io! Semi d'erba dal mio rancho di casa! È una serra o cosa? Bagniamo il terreno! Aspetta! No! Cosa? È erba! Ma come hai fatto? Magia della campagna! Ora lavoriamo alla mia casetta! Ecco qui! È il mio nodo distintivo! Copro con una coperta e la tenda è pronta! Alcuni dettagli accoglienti! Casa dolce casa! Dove metto i miei trofei? Qui, sulla mensola di fiera! Il premio che ho vinto è il mio primo rodeo! Oh! Questa parete ha del potenziale! Un minuto! La stampa di mucche non passa mai di moda! Vado io! Entrate, gente! Ecco la mia porta! Ora mi sembra di essere davvero a casa! Cos'è? Un saloon per cowboy? Un rifugio per mucche? Wow! Questo sì che è epico! Tesoro! È ora che ti riveli il mio segreto! Guarda! Santo cielo! Questo è il cappello da cowboy dei miei sogni con gli strass! È davvero mio! Dove l'hai preso, mamma? Quando ero giovane vivevo in un ranch! Ero anche una cowgirl! e i bei tanti andati! Sei molto gentile, mamma! Cos'altro nascondi lì dentro? Wow! È una vera miniera d'oro! È un passaggio segreto per il mio ranch! Forte! Una festa? Mentre parliamo? Certo! Sto arrivando! Sorella! Devo assolutamente partecipare a questa festa notturna! Mi copri? Io? Coprire te! Bene! Ho un'idea! Ecco il tuo spaventapasseri! Forza! Batti il 5! Non un 5! La tua roba! Oh, giusto! Ora i nostri non si sospettiranno! Sogni d'oro, Kate! Buonanotte, tesoro! La festa è stata uno spasso! Oh no! Ho dimenticato le chiavi! Dovrò passare dalla finestra! Tormono tutti? Che bello! Ai! Ah! Ladri! Che succede? Catturare i trasgressori è la mia specialità! Vieni qui! Oh! Sei tu, Sky? Andiamo! Ma cosa volevi fare? Entra in stanza! Ora! Forza! Batti dei colpi! Qual è il tuo piano? Una finta lotta! Cavolo! Spero che Kate stia bene! Dammi la tua giacca, Sky! Ecco! Aprite la porta! State attenti! E non tornare mai più, ladro! Kate! Ci hai salvato la vita! Grazie, tesoro! Cos'è successo? Mi sono appena svegliato! Kate è il nostro supereroe! Ha detto! Lo apprezziamo molto! Lo stile da cowboy si addice molto anche a me! La mia tecnica del lozzo potrebbe essere migliore! Kate, mi insegna a lavorare con questa corda? Certo! Guarda e impara! La pratica è ciò che conta! Gira, lancia e tira! Capito? Tocca a te! Gira! Lancia! Tira! Oh! Ha funzionato! Guarda cosa ho preso! Una coca! Non funziona così! Perché? L'ho presa in piano! Devi pagare! I cowboy non rubano! Getta i soldi nel negozio! Tieni il resto! Grazie! Tesoro! Ho un regalo per te! Il vestito più costoso dell'ultima collezione! Provalo! Ti starà benissimo! Ok, mamma! Aspetta! È di seta, sai? Ehi, mamma! Stai bene? Santo cielo! Svegliati! Che ne pensi? È il vestito che mi hai regalato! Grazie! Un gilet? O una giacca Ipser? Oh! Sky? Perché la tua stanza è così in disordine? Metti in ordine le tue cose! Oh no! Odio pulire! Oh! Kate! Puoi aiutarmi? Devo andare via! Puoi pulire le mie cose? È il minimo che possa fare! Sono in debito con te! Sei la migliore! Kate! Cos'è questo? Pile di vestiti! Qualcosa non va! A casa nostra lo facciamo sempre! Oh no! Sta arrivando la mamma! Sky? Cos'è questo? È questo! Kate mi ha aiutato a pulire! Ma perché è tutta arrotolata? È così che conservano il pieno dalle parti di Kate! Non è carino? Lo è! Ottimo lavoro! Kate! Siediti e fai colazione! Ci sono latte e biscotti! Cosa? È latte? Che schifo! Ma che vuole fare? Famiglia? Ecco del vero latte fresco direttamente da una mucca! Buon appetito! Alla salute! Wow! Gustoso! Ancora? Volete del latte? Imparate a mungere una mucca! Ecco! Prendete tutti la mammella da addestramento! Fate un buco! E muncete la mucca! Wow! È così affascinante! Non lo abbiamo mai fatto prima! Wow! Meraviglioso! Abbiamo un latte alla frutta colorato! E ora prova a indovinare il sapore di ogni latte! Hai indovinato? Scrivi la risposta qui sotto! Qual è il problema? Il mio costoso ombretto sembra un po'... strano sulla mia palpebra! Non si vede nemmeno! Ehi mamma! Ti ho preso una cosa! Grazie tesoro! Sono piena! Apri l'uovo! Ombretto! È così colorato! Perché è organico al cento per cento! Wow! Mi piace un sacco! La mia bellezza è tutta al naturale! Ragazzi, la colazione sarà pronta in un secondo! Mamma, lascia che prepari io la colazione! Vediamo! Una padella? Costi? Ma come si accende? Dove posso accendere il fuoco? Strano! Comunque, passiamo al piano B! Kate, ma dove vai? Piano BBQ! Ecco, la colazione è pronta! Buon appetito, famiglia! Che profumo delizioso! Brava, Kate! Sorprendente! Fai silenzio! Sveglia! Sta zitta! Voglio dormire ancora un po'! Oh no! Credo di aver dormito fino a tardi! Sbregati! Sono a corto di tempo! Mi assicurerò che papà si svegli in tempo per andare al lavoro! Il sole sta sorgendo! Dovete alzarvi! Devi portare il tuo cavallo sulla strada della città! Oh tesoro! Sono le 5 del mattino! Bella canzone mattutina! Senti! Sta dormendo qui, cowboy! Papà! Hai una riunione importante oggi? Ecco un ferro di cavallo fortunato! Un cosa? Indossalo al collo! Grazie tesoro! Devo andare! Bye bye! Buon pomeriggio! Cosa? È un ferro di cavallo fortunato! Ne ho uno anche io! Questa trattativa sarà un gioco da ragazzi! Tesoro! Vieni qui! Famiglia, una sorpresa! Ho comprato un ranch! Ora possiamo andare tutti a vedere la casa di Kate! E vivere nel nostro ranch! Sorridete? Dite tutti! Famiglia!